Come sapete abbiamo completato e firmato il regolamento relativo alle azioni di promozione e informazione dei prodotti agricoli. Abbiamo molto lavorato su un grande tema per noi dominante durante questa presidenza, cioè il grande tema dei giovani in agricoltura e la sfida generazionale nella vicenda agricola europea. Proprio oggi, proprio questa mattina, abbiamo adottato delle conclusioni di presidenza che invitano in particolare allo sviluppo di alcune misure precise per favorire in particolare l'accesso al credito con il concorso della Banca Europea degli Investimenti, l'accesso alla terra e l'attivazione di un meccanismo di scambio di esperienze e di formazione sul modello Erasmus. Sono i tre punti che abbiamo messo al centro di questo documento che è stato assunto come conclusione dalla Presidenza e che ha avuto un sostegno importante da parte di oltre 22 Paesi, 22 Paesi su 28 e quindi un segnale molto importante che spero adesso la Commissione riesca a gestire concretamente.